Bellissimo, siamo ancora qui a Sarno da un bacino di laminazione. Qui complimenti all'architetto perché abbiamo integrato un bacino di laminazione con una pista di atletica, una pista sportiva, un impianto sportivo dove si può venire a fare atletica e dove si può venire anche eventualmente a pattinare. Un velodromo addirittura, la cosa ideale sarebbe fare un velodromo per fare gare di ciclismo. Quindi io direi, qui in questi bacini di laminazione, vedete la pista, il discese e tutto. Direi veramente fantastico, bell'idea e complimenti. Scendi dai. Passa pure, prossimo video, siamo venuti a Roma ma vedremo adesso un altro, parleremo di un'altra cosa. Seguitemi perché parleremo del rione Terra. Rione Terra, seguitemi, Berta Geologo, al prossimo video. Spegni.